allora Marina innanzitutto ciao come va tutto bene sei in un posto fresco tutto benissimo sono in montagna si sta benissimo c'è 21 gradi mi fate sinceramente tristezza a pensarvi al caldo spostatevi in montagna ho acceso un fucherello perché qua Torino fa anche un po' fa anche un po' freschetto allora Amelio Cismondi non ne ha potuto presenziare i Toroscar, è uscito anche il video quindi di conseguenza tutta una serie di domande che Giorgia Palmier doveva farle non le sono state fatte perché è venuto al teatro è stata un'esperienza abbastanza problematica dal punto di vista tecnico in generale oggi siamo qua con Marina per chi non la conoscesse ma credo oggettivamente pochi perché se guardate questo video penso la conoscete, idatrici del gruppo resistente Granata gruppo si diciamo super mega iper polemico nei confronti di Cairo da anni che ha fatto uscire questo post nei giorni scorsi crediamo e speriamo di aver dimostrato in questi ultimi tre anni e mezzo di essere seri ed affidabili pertanto se scriviamo che Urbano Cairo ha rifiutato pochi giorni fa una proposta d'acquisto del Torino FC da parte di un acquirente con più che consistente disponibilità economiche è perché ne abbiamo l'assoluta certezza sta solo a noi decidere se continuare a insultarci e battibeccare sui social o unirci per fargli capire che non è più gradito e che deve passare la mano a chi può ridare dignità al Toro allora innanzitutto Marina che belva ti senti in che senso questa è una citazione una citazione non come la Fagnani la Fagnani non sai chi sia la Fagnani niente allora questa supergega è saltata niente allora andiamo avanti andiamo avanti allora Marina questo post è stato scritto appunto da da Instagram dal gruppo tuo quindi in pratica l'hai scritto tu come se l'avessi detto te quindi io ti chiedo innanzitutto Marina che belva si senta no questa l'ho già fatta cosa rispondi a chi dice che non è vero che sapete per certo chi è questo acquirente rispondo che i resistenti Granata sono nati tre anni e mezzo fa e tre anni e mezzo che costantemente fanno delle azioni che sono nate sui tutti i mezzi di informazione sia sulla stampa che la fissione che striscioni che insomma manifesti poster e chi più ne ha più ne metta che non hanno mai pubblicato nella loro vita delle notizie fake perché tutto quello che è stato pubblicato è assolutamente certificato anche perché se mai ci permettessimo di fare qualcosa della quale non siamo assolutamente certi saremmo sicuramente querelati e quindi se abbiamo dato questa notizia è perché per una serie di circostanze barra conoscenze siamo assolutamente certi che c'è stato un interesse all'acquisto da parte di un gruppo di primaria importanza a livello internazionale e siamo assolutamente certi che è stata sbattuta a una porta in faccia dichiarando che la società non è assolutamente in vendita chiaramente si può credere a questa notizia come si può non credere io sinceramente non posso dare ulteriori informazioni per una parola che ho dato e quindi una parola che io intendo assolutamente rispettare e quindi che devo dire non capisco quale si dice vediamo non si sa mai non si sa mai le critiche sono state perché non abbiamo fatto il nome allora io chiedo a tutte queste persone che continuano a chiederci se non fate il nome sono solo chiacchiere cosa cambia cioè se io avessi scritto un po' cambia no non cambia non cambia perché se io dico che è signor Lavazza faccio il primo nome che mi viene in mente quindi non è Lavazza non è Ferrero né Lavazza eh no però questo non è scontato eh allora la domanda era quella non è Lavazza né Ferrero non è né Benedetto non è il ritorno non è italiano non è italiano l'ho detto prima è un gruppo a livello internazionale e non è italiano è straniero se io avessi detto che il signor Lavazza si è seduto davanti a Cairo e Cairo gli ha sbattuto una porta in faccia cosa cambiava? cioè il concetto l'informazione lo scopo di questo post è semplicemente per ribadire che per l'ennesima volta è stata rifiutata una proposta d'acquisto da Cairo perché poi non è la prima volta che succede non è questa grande novità cioè a settembre dello scorso anno è uscita la notizia dell'interesse di un fondo americano io so perfettamente di un gruppo che fino a un anno e mezzo fa ha tentato disperatamente di avere un contatto con Cairo per formulare una proposta d'acquisto e non è mai stato ricevuto allora a questo punto la notizia vera è che noi siamo in ostaggio di una persona che per chissà quale motivo ha deciso di non di tenerci in ostaggio di continuare a tenere una società sì una società che dimmi poi ti voglio fare una domanda a tenere una società per qualche suo scopo che noi non conosciamo perché è una società in perdita sta facendo sta continuando a fare bilanci è il sesto bilancio in perdita ha un centinaio di milioni di debiti quindi non è che dici sta tenendo una società che gli rende sta tenendo una società che è più indebitata del toro calcio fallito di Ciminelli ha la possibilità di passare la mano a un gruppo che avrebbe la forza imprenditoriale per investire sia nella squadra sia nelle strutture perché comunque sarebbe anche stato interessato al discorso stadio al discorso centro allenamento eccetera eccetera e non lo fa questo è il problema non è il problema non è chi è questo gruppo il problema è che Cairo non vende né a questo gruppo né ad altri beh però secondo me ti posso dire Marina prima di farti una domanda secondo me in realtà il fatto che tu dici beh diciamo la notizia il focus non è sull'ente che vorrebbe comprare il toro ma sul fatto che Cairo non lo vende io però su questo non sono molto d'accordo è chiaro che è molto importante il fatto che Cairo non lo venda ci sta per delineare la persona e la situazione ma secondo me è anche molto importante per altri aspetti capire chi potrebbe essere questo ente però io ti chiedo quali sono gli eventuali danni che potresti avere nel rivelare questo nome tu hai parlato di accordi ma in che senso perché non potresti rivelarlo dal momento che come dici tu è successo quali sono i danni che potresti avere potresti avere voi in quanto lo sentite che è nata cosa vuol dire che è stata data una parola dal momento che lo scopo vostro è quello di come dire essere molto trasparenti ma di fatti però io ho anche una parola d'onore e quindi avendo avuto avendo avuto un contatto diretto con una persona coinvolta in questo in questo non si può dire trattativa perché la trattativa non è neanche partita che con una con una persona esco e molto direttamente cioè con una persona dell'azienda con una persona che fa parte di quell'azienda oppure che non ha posizione interlocutoria una persona coinvolta nel in questo aborto di trattativa perché non è assolutamente partita nel senso che appunto a seguito del di questo contatto che c'è stato fra l'acquirente e la proprietà del Torino FC il Torino FC ha immediatamente precisato che la società Torino FC non è in vendita quindi non è assolutamente partita nessuna tradettiva ma la persona in questione mi ha chiesto la riservatezza sul nome dell'acquirente perché prima non voleva assolutamente neanche comunicarmi il nome dell'acquirente poi me l'ha comunicato fatto salvo che io gli dessi la mia parola d'onore che non avrei diffuso il nome quindi da me questo nome non uscirà mai però perché secondo te questa persona ti ha detto se poi uscirà per altre se poi eh ma secondo te perché questa persona ma secondo te cioè nel senso io faccio fatica a capire una cosa ma dal momento che tu comunque sia anche se dovessi far uscire il nome non faresti uscire il nome della persona che fa da ponte ma solo il nome dell'acquirente quindi questa persona rimarrebbe nell'ombra se facessi se facessi il nome dell'acquirente sarebbe automatico chi me l'ha rivelato addirittura quindi praticamente questa persona è super mega mega legata per esempio qua Pasquale Foti dice una cosa che secondo me è vera avete in mano un'arma l'unica che potrebbe veramente destabilizzare l'ambiente a vostro favore non è vero se il comprattore si palesa di signor Medei sono convintissimo che tutti i tifosi si mobiliteranno secondo me guarda che secondo me sì perché se tu dici ok l'azienda che vuole il comprattore è l'azienda X secondo me voi avreste anche più credibilità perché ti dico una cosa Marina cioè la provocazione è questa non perché lo penso io sono sincero io penso che quello che dici sia vero te lo dico sinceramente io penso che sia vero te lo direte però secondo me nel momento in cui voi non rivelate il nome dato che voi cioè te la metto come domanda tu non pensi che ci sia una perdita di ha suonato ma non importa non vado ad aprire se c'è una cosa molto più importante quando non suono mai nessuno non capisco chi sia che ha suonato il contenuto tanto è registrato quindi non si può sapere che lo stiamo registrando non può essere nessuno che sta cercando di censurarci no comunque tu non pensi che possiate perdere un po' di credibilità nel momento in cui voi che richiedete una trasparenza Cairo siete in questo caso non trasparenti e al netto di tutto state comunque dicendo qualcosa che potrebbe dire chiunque domani potrei dire oppure non io magari magari so il Toro siamo noi per dire che cosa potrebbe dire guardate noi siamo conoscenza di una persona che appunto ci ha detto che con certezza c'è un acquirente che Cairo vorrebbe vendere eccetera però io perché dico questo perché voi a differenza del Toro siamo noi siete molto ovviamente anti-cairisti quindi da un certo punto punto di vista avrebbe anche una logica il fatto di far perdere ulteriore credibilità Cairo comunque di diciamo mettere ancora più in cattiva luce Cairo cosa che comunque già è con l'utilizzo di questo argomento fuffa in linea teorica intendo però è un'opzione per poter ancora di più senza fare nomi perché potenzialmente potrebbero non essere vero mettere ancora più in cattiva luce Cairo cioè tu non pensi che invece il fatto di fare il nome sarebbe nel complesso meglio che non lanciare il sasso e nascondere la mano sì ma non lo posso fare cioè tu vorresti farlo diciamo tu vorresti farlo ma io allora io parlo scendiamo la cosa se potessi farlo lo farei ma io ritengo che non cambierebbe di una virgola perché c'è un sondaggio online da che ho rilanciato un paio di volte in queste ultime settimane che chiede se si organizzasse una manifestazione ipoteticamente si organizzasse una manifestazione a settembre chi si dichiara disposto a partecipare senza se e senza ma dove è il sondaggio questo sondaggio lo trovo su Facebook sulla pagina Facebook ok credo che non so questo ecco questo qua esatto è ancora vecchissimo sui 18 luglio 2022 ah si riferimento a una cosa vecchia ho rimandato quello che avevo già fatto nel 2022 nel 2022 avevano aderito circa 500 persone adesso siamo oggi a 800 e qualcosa tra l'altro si e senza se senza ma 75% una percentuale che torna è sempre questo famoso è incredibile questo è incredibile 75 è una costante giochiamoci questo numero pazzesco ecco però questi 75% sono 890 persone di un sondaggio che è stato visto da oltre 10.000 utenti allora se noi se noi abbiamo 890 persone che si dichiarano disposte a partecipare sai quante ne scenderebbero in piazza poi realmente 10 12 lo so per quanto riguarda anche gli eventi dal vivo non so qualcosa sì sì no le scenderebbero magari 40 secondo me 30 30 ma è nel senso sì tu dici di più poi è difficile smuoverle è difficile smuoverle non lo dico siamo larghi 200 persone allora che cosa facciamo organizziamo una manifestazione la famosa perché perché nasce questo sondaggio perché costantemente noi riceviamo tutti i giorni decine di messaggi privati o anche in pubblico che ci chiedono basta uscite dai social organizzate una manifestazione c'è anche chi ci ha scritto voi siete solo fumo non siete arrosto noi siamo disposti ma un utente su instagram cavallo ma no noi noi siamo anche disposti a come facciamo da tre anni e mezzo a metterci la faccia cioè poi la faccia è la mia semplicemente perché perché diciamo che sono la porta voce del gruppo però chi chi ha seguito le iniziative del gruppo conosce perfettamente tutte le nostre facce cioè chi si è smosso a venire alle nostre iniziative conosce le facce di tutto il direttivo dei resistenti Granata ma se poi la gente non si muove cioè al di là dei social la gente non si muove scusami ma a me fanno ridere quelli che dicono se dite il nome ci si mobilita perché ci si deve mobilitare a prescindere ma perché si dovrebbe mobilitare a prescindere lo so lo so però parti dal presupposto che secondo me le persone sono pigre ma io stesso se tu fai il nome ma sarebbero pigre eh no ma sarebbero pigre lo stesso anche se ma perché secondo me non ci credono secondo me secondo me bisogna fare un sondaggio quante persone credono eh al fatto che che si accerta questa cosa cioè nel senso però io ti chiedo una cosa ma questa persona che ti fa da tramite tu perché sei sicura al 100% che dica la verità non potrebbe magari lui o lei lui maschio o femmina come come perché sei così certa che che lei non dovrebbe appunto non potrebbe stare mentendo hai un rapporto così fiduciario ho un rapporto assolutamente fiduciario secondo ho avuto un contatto diretto con l'acquirente con chi ha tenuto i contatti con con il Torino FC come hai fatto come hai fatto ad avere contatto diretto con un colosso del genere della finanza casuale coincidenze e conoscenze però è internazionale quindi hai parlato inglese oh yes no lui parli vabbè io parlo anche inglese comunque la persona in questione parla italiano perché è responsabile per l'Italia se questo tramite ti dici a un certo punto vabbè dai facciamo questo nome tu lo faresti verresti qua a farlo chiaramente poi magari alla fine di questa intervista lo fa attenzione perché può anche essere che Menele Cismondi in qualche modo piano piano potrebbe farlo tu lo faresti qua chiaramente il nome ma io lo farei ovunque cioè se fosse autorizzato prima di tutto qua il Torocast se fosse autorizzata se fosse autorizzata a farlo lo farei ma ripadisco ritengo che il fare o non fare questo nome non dovrebbe avere nessuna valenza perché noi dovremmo mobilitarci unirci ma lo dico io sì secondo me Marina dice una cosa che è giusta cioè dal punto di vista morale etico non so come dire dal punto di vista valoriale hai ragione tu dici beh però sarebbe molto meglio se senza fare nulla le persone facessero volontariato aiutassero tutte le persone più povere ma laddove non c'è questo bisognerebbe dare uno stimolo io sono il primo a essere pigro sono d'accordo su quello che dici che dici beh le persone dovrebbero a prescindere mobilitarsi fare qualcosa un po' come dice Ciambella da Miami però dato che il popolo è bue adesso non c'entra bue però il popolo è pigro e io pure tra l'altro mi metto in mezzo però voglio dire poi magari per alcune cose no per altre sì però secondo me uno stimolo ulteriore anche se sarebbe più giusto non dare questo stimolo perché le persone dovrebbero mobilitarsi lo stesso sarebbe dare il nome secondo me se voi deste questo nome se ti mettessi d'accordo con questa persona con lui e poi veniste qua veniste tu a fare il nome o comunque facessi il nome secondo me le persone a quel punto si mobiliterebbero di più tu mi potresti dire ma perché eh ma è non so come spiegartelo cioè sarebbe un qualcosa di molto più quadrato sarebbe un qualcosa di più assodato non sarebbe un qualcosa nell'aria che rimane lì perché comunque è un concetto quello che tu dici io ti posso credere c'è magari chi non ti crede c'è magari chi ti crede ma non crede alla persona che te l'ha detto c'è magari chi crede al fatto che può essere successo ma non crede al fatto che questo acquirente in realtà era così sicuro cioè può anche essere una via di mezzo nel senso magari questo acquirente non è così potente come dici magari gli ha chiesto Cairo voleva venderlo ma l'acquirente gli ha chiesto delle cose che Cairo giustamente non poteva dargli ci sono mille sfaccettature quindi se nel momento in cui non si dice il nome rimane una cosa che è nell'aria che non esiste nel dire il nome e cazzo si fanno veramente tanti passi avanti si farebbero veramente tanti passi avanti perché così Marina mi spiace ma in teoria sono bravi tutti ma io non cioè nel senso io penso che sia vero e penso che tu sei genuina però tu stessa non puoi sapere come sono andate le cose infatti io mi ti ho anche fatto una domanda ma tu non pensi ti faccio una domanda secondo te perché avremmo fatto un post del genere se non fossimo più che sicuri che è una cosa che è realmente successa per quale motivo per quale scopo io ti rispondo non perché io la penso perché penso che sia esattamente così ma ti rispondo per quello che può essere l'opzione dal punto di vista logico perché voi ce l'avete con Cairo il vostro obiettivo è fare in modo che Cairo se ne vada e aspettiamo tre anni e mezzo per fare un post di questo tipo potevamo farlo un anno due anni fa però magari potrebbe in teoria essere venuto in mente adesso io non credo io non credo in questo complotto te lo dico sincero io non credo sia così io non credo né che sia così né do per certo al cento per cento che ogni cioè che tutto quello che hai detto anche a tua insaputa sia esattamente così perché ti dico secondo me può anche essere che il contatto c'è stato te l'ha detto questa persona tu sei genuina e dici la verità ma può anche essere infatti mi ero preparato seguendo questa domanda può anche essere che magari la proposta che è stata fatta a Cairo in realtà magari era un qualcosa che non so come dire era magari sbagliata e magari alla fine questa azienda questo questa super azienda in realtà non aveva realmente magari le garanzie quindi Cairo paradossalmente potrebbe anche aver fatto bene azzo che dirlo a te è impossibile ma a non venderlo perché potrebbe anche essere che questa azienda avrebbe poi indebolito ancora di più il toro c'è anche quest'opzione capito tu mi dici no sono sicuro al 100% che questa azienda tu lo dici come se fosse stata tu presente c'è certezza assoluta è questo che non capisco ho una certezza assoluta dal nome dell'azienda solo dal nome non dal nome della persona che ti ha detto no perché quindi un'azienda conosciuta che se io vado per strada e dovessi dire il nome di questa azienda su 10 persone quanti la conoscerebbero zero come zero zero no dai come zero lo conoscerebbero sì perché non è italiana ok eh però eh sì però non è italiana ma sono tante cioè se dico mcdonald se dico non è mcdonald e allora però non è così importante non è così famosa se dico sony samsung non è no no ehm questa società di cui io sono certa al 100% perché ho avuto un contatto con il responsabile di questa società per una serie di coincidenze e di mie conoscenze perché comunque tutti lo sanno io sono nel mondo della pubblicità sono stata per 40 anni nel mondo della pubblicità il padre dei miei figli per tre anni ha collaborato è stato il braccio destro di urbano cairo quindi per tutta questa serie non sapevi bene il padre è stato per tre anni il braccio destro di urbano cairo alla nascita della cairo communication nel 1996 quindi per tutta questa una serie di coincidenze barra conoscenze mie del passato sono venuta a contatto direttamente con uno dei responsabili di questa società che è straniera che gestisce decine 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 di miliardi e quindi non non ci sarebbe stato assolutamente l'ipotesi che tu hai ventilato perché comunque è una realtà che vale cento volte cairo quando è accaduto questo contatto poche poche settimane fa e perché questa persona ha deciso di dirtelo sapendo che perché questa persona ha deciso di dirti questa cosa ma nello stesso tempo di dirti di non dire il nome ma nello stesso tempo ti hai dato la possibilità di utilizzare la notizia allora coccinella una coccinella sulla telecamera questo è incredibile prego prego allora perché ci sono altri interessi in ballo che non devono essere messi in pericolo dall'uscita di questo nome punto che hanno a che fare anche con Cairo esatto allora beh ecco ciao è stato meglio no ma in un futuro cioè in un futuro che può essere domani come fra tre anni anche laddove non si concretizzasse nessun tipo di cioè non si concretizzasse questa cosa che mi pare non si concretizzasse comunque in un futuro tu credi che ci sia la possibilità di poter poi svelare questo nome questa azienda allora al momento il rapporto è chiuso per quello che riguarda il Torino FC perché c'è un muro di cemento armato che dice la società non è in vendita nel momento in cui eventualmente riuscissimo a far sì che Cairo si sentisse veramente sgradito ai tifosi del Toro e aprisse questo muro di cemento armato e aprisse uno spiraglio io non escludo che questa società si rifaccia avanti ma al momento attuale se tu sei un businessman e ti vai a sedere davanti al proprietario di RCS l'A7 Torino FC eccetera eccetera e ti viene detto immediatamente il Torino FC non è in vendita non puoi fare altro che prenderne atto quindi non c'è stata nessuna trattativa cioè Cairo ha proprio detto questo acquirente ha avuto a che fare con Cairo oppure è già stato frenato prima di avere a che fare non è stato proprio possibile parlare con Cairo direttamente no ha parlato con Cairo ma c'è stata un po' di trattativa sono se Cairo ha un po' di tuba il Torino FC non è in vendita non ho nessuna intenzione di vendere il Torino FC fine del discorso cioè che cosa doveva fare l'altro fultargli una pistola alla Tempia no io non dico quello e quindi è questo che è morto sul na ma secondo te perché Cairo vuole secondo te adesso voglio dire una domanda un po' magari poco interessante perché non è che fare con la cosa ma in realtà mi interessa vorrei capire il motivo sinceramente perché secondo te Cairo ma veramente proprio senza aprire sulla lingua trasparente perché Cairo secondo te in base anche a quello che sai magari agganci cose vuole tenere il Toro una persona che cazzo ha veramente non dico un impero ma quasi sì potremmo anche dire un impero Cairo Communication nrcs giornali perché vuole mantenere il Toro non do alcuna spiegazione logica non do alcuna spiegazione logica perché non la trovo cioè non lo so l'unica però se dovessi pensare in base anche delle tue conoscenze della storia di Cairo che magari tu conosci meglio di altri qualche particolare l'unica spiegazione che posso dare è il suo ego smisurato e poi un'altra cosa ma sui social tu su Instagram tu a Instagram vedi Cairo secondo te ma disponimi non hai un seguito social no sono bloccata sono bloccata Cairo Cairo ti ha ti ha bloccato ma anche il risultato di Granata ha bloccato beh c'è posto sì ha bloccato ha bloccato me ha bloccato parecchi resistenti non so se resistenti Granata l'ha bloccato no ma non lo seguo io sono sono bloccata dal Torino FC sono bloccata da Barile sono bloccata da tutti si vede che non ho abbastanza DNA Toro Torino no no si vede che invece vuol dire che tiene conto di te purtroppo a me non ha bloccato Cairo ha postato questa foto subito dopo no ma quella che emblema io dico io seriamente lo dico cioè il profilo di Rubano Carlo dal punto di vista psicologico io veramente non lo capisco cioè Cairo sa adesso a parte tutto di essere odiato no situazione buongiorno è tutto dopo che lui aveva detto no rimane tutto lui cosa fa non è che sta nell'ombra non dice nulla parla d'altro no lui pubblica stessa foto grande bongio sempre nel cuore ma dal punto di vista adesso quando siamo psicologi tutto quanto però veramente ma una persona così che prof cioè perché lo fa secondo te veramente a parte tutto ma perché lo fa vuole provocare sì assolutamente anche secondo me ma perché oppure ingenuo oppure è realmente strano ingenuo lo escludo completamente per me questa foto vuol dire non me ne frega assolutamente scusa la parola un cazzo di voi tifosi del toro io mi sono intascato i 40 milioni e tanti saluti sì però questo concetto secondo me ci può anche stare da un certo punto di vista maligno nel senso del villain ma perché però esporlo cioè se io voglio fare un torto a una persona e le faccio un torto le faccio un torto ma poi perché devo pubblicamente far capire che le sto facendo un torto provocandola io veramente io su questa cosa sono molto interessato cioè io non capisco proprio la fenomenologia di Urbano Cairo come persona che poi magari si mette a mettere delle foto così del suo viso dei selfie adesso qua la storia non si vede più cioè qual è l'obiettivo di questa persona è per questo che io esco folle io non comprendo io che penso di più un De Laurenti che è comunque una persona furbissima simpaticamente un testa di cazzo ma nel senso cioè arrogante antipatico però io capisco dal suo punto di vista quello che vuole fare Cairo no perché Cairo si spaccia come un buono cioè nel senso non capisco cioè a questa immagine è quasi simpatico io ho pure detto a me da un certo punto di vista Cairo mi sarebbe anche simpatico se non fosse per nulla legato al toro perché lui è uno che vive la vita così tranquillo balla fa però e cose sono due cioè o è perché vuole provocarci e non capisco il motivo ma proprio non capisco oppure è ingenuo io faccio fatica a pensare che entrambe le cose provocare perché cioè sei lì hai tu i soldi o due cose almeno stai più nell'ombra sei poco furbo ingenuo mi sembra strano come fa a essere ingenuo una persona che è arrivato a quei livelli io non capisco non capisco non capisco vabbè Marina assolutamente non è ingenuo adesso te lo posso assolutamente assicurare lui è uno in base a cosa in base che lo conosco dal 1990 essendo in pubblicità cos'è che sai che noi non sappiamo di Cairo qua puoi dirlo qua devi dirlo qua siamo al toro cosa so qualcosina da questa intervista di più rispetto a quello che a gente sapeva secondo me è giusto darcela almeno una cosa che una cosa che noi non sappiamo una una solo una su Cairo che è una pessima persona che cosa ti posso dire sì ma i motivi però c'è qualcosa di pratico ma che ti posso dire un aneddoto ma cose che sanno tutti dai cioè un aneddoto un aneddoto tutti questi anni se lo conosci dal 90 posso solo dirti che che è una persona una persona che vive per lavorare e non e non lavora per vivere cioè una persona che comunque ha l'unico suo scopo nella vita di accumulare soldi è successo per se stesso è successo per se stesso l'unico interesse in base a cose in base a situazioni precise che sai quello vogliamo sapere ma che ti devo dire cosa vuoi che ti racconti come sei sposato con ma tu in questo momento hai un contatto diretto ti ha bloccato su Instagram ma tu hai un contatto diretto con Cairo presumo su Whatsapp qualcosa no se lo conosci dal 90 no ma lui sa lui secondo te com'è che ti percepisce Cairo come se dovesse descriverti come ti descriverebbe lui sostiene che non mi querela solo per rispetto al mio ex compagno e perché dovrebbe querelarti ma questo ha detto cioè che ha detto al mio ex compagno che non mi sta che non mi querela esclusivamente perché per rispetto all'amicizia che ha nei confronti del mio ex compagno quindi ma il tuo compagno tutt'ora comunque il tuo ex compagno tutt'ora il tuo ex compagno tutt'ora ha a che fare con Cairo e molto vicino a Cairo non più ma ha a che fare per lavoro ma non 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 lavora più da da secoli con con Urbano comunque continua ad avere un ottimo rapporto con lui e ogni tanto c'è un rapporto tra te Urbano-Cairo c'è un rapporto di amore-odio no c'è solo un rapporto di odio da sempre però l'odio diciamo che è abbastanza simile sì no un odio legato l'odio l'amore sono due facce di una stessa medaglia come dicono anche gli Im gruppo musicale di Villivalo che io ascoltavo nel 2008 no diciamo che sì ho capito tu capisco perfettamente che per te c'è l'odio legato al fatto che c'è il toro di mezzo chiaro ho capito ho capito allora io ho una pessima opinione di Urbano-Cairo già dai tempi in cui facevo il direttore marketing e pubblicità di un'azienda perché comunque nel settore pubblicitario era definito lo squalo quindi questo era il suo soprannome e non c'era persona che amasse Urbano-Cairo nel mondo della pubblicità per la sua spocchia la sua arroganza la sua cafoneria anche perché se tu ricevevi in azienda Urbano-Cairo che in teoria era il tuo fornitore lui si presentava con due ore di ritardo quindi non non hai mai non ha mai fatto nulla per farsi amare dopodiché per tutti i trascorsi che ha avuto Urbano-Cairo nel settore della pubblicità da come ha fregato Rusconi portandogli via Italia 1 ai tempi di Berlusconi per come ha lasciato in mezzo alla strada centinaia di agenti dall'oggi al domani quando voleva fare un prodotto simile alle pagine utili e poi dall'oggi al domani l'ha chiuso e si sono trovate centinaia di famiglie in mezzo alla strada cioè è uno squalo anche dal punto di vista imprenditoriale poi io ritengo da sempre che lui sia un prodotto della famiglia Agnelli perché l'ho già detto e lo ribadisco quando lui era stato fatto fuori da Publitalia perché Marcello Dell'Utri sostanzialmente aveva detto o me a Berlusconi aveva detto o me o lui ed è stato fatto fuori da Publitalia è stato salvato dalla Fiat perché ai tempi ha avuto immediatamente la concessione di testate leader della RCS che ai tempi era proprietà gemina e da lì è nato l'impero di Cairo dopodiché la Sette l'ha acquisita grazie al marito della Christine Lange e anche lì uomo Fiat la vicenda RCS è sicuramente un aiuto sostanziale l'ha avuto dalla Fiat per uscire dalla vicenda Blackstone è intervenuto un uomo Fiat cioè quindi per me i legami sono quelli che più o meno tu però non ci dice niente di che sei solo tu qualcosa che sei solo tu no non credo perché quello che so solo io l'ho già detto cioè quello che so io credo di averlo di aver passato la mia vita dirlo quindi non ho dei dei non hai ancora detto beh non mi viene in mente niente ci penserò ma credo di aver già detto di tutto e di più cioè poi quello che che potrei dire e che non ho ancora detto pubblicamente non lo dico perché mi becco una querela quindi ma perché ti dovresti beccare una querela su qualcosa che potresti dire ma non dici che riguarda direttamente Cairo o no sì che tu sai che ha a che fare col toro o con le sue aziende ha a che fare con lui come come persona no col toro no vabbè ma anche col toro però cioè capisci che ci sono anche delle cose del toro però non le vai a denunciare alle forze dell'ordine o comunque a qualche cioè se tu sei qualcosa allora se tu sei qualcosa che potrebbe far sì che Cairo ti potrebbe querelare ma è qualcosa di importante e di serio perché non potresti tu nella figura anche di Ressenti Granata andarlo a rivelare a un ente non so quale possa essere questo ente che si occupa di che ne so se dovesse avere a che fare con i bilanci che si occupa di bilanci se dovesse avere a che fare con altre cose che si occupa di altre cose cioè sarebbe giusto rivelarlo perché bisogna avere le prove io posso avere posso avere io avendo appunto un passato pubblicitario e sapendo perfettamente come funzionano le cose nel mondo pubblicitario posso ipotizzare che parte consistente dei ricavi pubblicitari legati alla cartellonistica dello stadio non vengano acquisiti dal Torino FC ma vengano dirottati nei bilanci della Cairo ma io questo lo posso ipotizzare e in qualche cosa però lo ipotizzo se non è le prove lo ipotizzo perché se vado a prendere gli introiti pubblicitari derivanti dalla cartellonistica degli stadi delle altre società sono almeno il triplo rispetto a quello che viene messo a bilancio dal Torino FC perché hanno fatto un'impiesa su questo? sì c'è sulle pagine sulla nostra pagina dei resistenti ci sono un paio di post che parlano esplicitamente di questo tanto è vero che guarda caso noi abbiamo fatto un post specificando esattamente quali erano gli introiti pubblicitari delle altre squadre negli ultimi cinque anni raffrontati a quelli del Torino FC su Facebook sì quando eravamo qua? un po' di tempo fa guarda caso nell'ultimo bilancio gli introiti pubblicitari derivanti dalla cartellonistica del Torino dello stadio del grande Torino sono passati da 2 milioni a 4 milioni allora com'è possibile che in un anno tu raddoppi una cifra che è sempre stata nei dieci anni precedenti intorno ai 2 milioni perché evidentemente quel post ha colto nel segno ma queste cose qui io non le posso dimostrare chi li potrebbe dimostrare? chi in società nel Torino FC può visionare le fatture e il tuo ex compagno? non potrebbe agire non è in società nel Torino FC però con Cairo però è vicino a Cairo sì ma non potrebbe assolutamente chi è che potrebbe agire? l'unico hai detto? se il Torino FC fosse effettivamente una SPA con dentro dei soci che al momento dell'approvazione del bilancio chiedono di vedere le fatture e chiedono le motivazioni per cui ci sono degli introiti pubblicitari così bassi derivanti dalla cartellonistica potrebbero eventualmente chiedere conto di una situazione del genere perché poi se tu una situazione del genere la spalmi su vent'anni non stai parlando di quattro soldi stai parlando di 30-40 milioni che invece di essere nelle casse del Torino FC sono finiti da altre parti ma quindi l'appello verso chi è di preciso il tuo appello? nessuno perché intanto nel Torino FC i soci sono Urbano Cairo punto perché non è un SPA sì è una SPA ma con le quote societarie sono detenute dalla UT Communication che è di proprietà di Urbano Cairo quindi non c'è nessuno all'interno del Torino FC che può a un certo punto dire ma come mai le altre squadre anche squadre che so io come il Bologna hanno introiti pubblicitari di 5 milioni in anno dalla cartellonistica il Torino FC non arriva a 2 milioni come è possibile oltretutto considerando che la pubblicità la vende la Cairo Communication che è comunque un colosso sul mercato italiano e come mai quest'anno sono diventati più di 4 milioni quando invece sono sempre stati sotto i 2 milioni e non c'è modo di fare un'inchiesta con risultati tutte queste cose che dici sono interessanti ma è possibile che non c'è modo di stile report fare veramente un'inchiesta con persone deputate nel settore non potreste voi che ne so pagare dovrei che fare con qualcuno che indaga su questo sarebbe interessante ma guarda che purtroppo rimangono solo delle parole che hanno senso ma in quanto parole sì ma legalmente ma legalmente è ineccepibile cioè non è che allora ti faccio un esempio tu sei Tonno Nostromo e decidi di comprare è l'azienda che ha chiesto a Cairo di comprare il toro no tu sei Tonno Nostromo e ti arriva l'agente di Cairo e tu vuoi comprare la cartellonistica allo stadio e dici all'agente di Cairo ti compro i cartelloni per centomila euro no? l'agente di Cairo ti dice ah bravo che bello però sempre per centomila euro io ti do la sette ottantamila euro quattro pagine di più diecimila euro e diecimila euro te li fatturo sui cartelloni legalmente è ineccepibile è un baratto legalmente nessuno cioè non è che c'è falsa fatturazione non è che c'è evasione fiscale cioè semplicemente tanto tutte le società sono di Cairo e a questo punto qui che cosa cambia? cambia che le altre società sono quotate in borsa e quindi c'è tutto l'interesse per dimostrare che vanno bene anche perché dalle altre società quotate in borsa lui si stacca i dividendi che incassa però questa cosa qui che tu dici ok legalmente può anche essere giusta ma tornando al discorso della trasparenza di Cairo comunque il tifoso del toro pensa che non è che interessi che tutto sia fatto in maniera legale da parte di Cairo laddove però è svantaggiato il toro secondo me fare un'inchiesta che rende fattuale questa cosa potrebbe ancora di più fare quello che detto prima ovvero sviluppare un moto che diventa poi reale pratico fisico si riempiono le strade e si va a fare la marcia la protesta e questo che dico che secondo me queste cose che dici che hanno senso in quanto parole tesi secondo me bisognerebbe fare un passo in più cioè dovreste veramente fare un passo in più perché sennò purtroppo siete percepiti come coloro che giustamente odiano Cairo che quindi cavalcano un senso comune di tutti fate qualcosa in più degli altri ovvio però secondo me manca un passo in più e la colpa è anche chiaramente mie e delle persone che dovrebbero dovremmo noi stessi fare quel passo secondo me manca qualcosa cos'è che manca per fare in modo che veramente si mandi via questa persona mancano i tifosi punto tre domande velocissime la prima la lettera a Cairo con la richiesta delle 50 domande da fargli che avete scritto non vi ha quindi risposto un mese fa 50 domande da parte di recenti Granata due a Cairo non vi ha ancora risposto giusto non vi ha detto nulla assolutamente no anche se è stata rimandata più volte la mail anche in modo polemico perché l'ultima volta gli ho scritto che stavano dimostrando quanto rispetto avessero nei confronti dei tifosi perché comunque se dei tifosi comunque ti chiedono un incontro è perché vogliono capire quali sono i tuoi programmi le tue prospettive che intenzioni hai qual è appunto qual è lo scopo per cui tu continui a tenere il Torino FC in queste condizioni perché continui a prenderci per i fondelli cioè è inutile ti risponde tramite mail ma tu hai provato però a scriverli su Instagram no perché ti ha bloccato ma tanto non avete provato a scriverli credo di sì credo di sì guarda che su Instagram risponde a me visualizza tutto ma penso a tutti io faccio così cercherò di cioè tramite Instagram lo taggo taggo voi e metto la lettera comunque visualizzare visualizza ma guarda che lui sa perfettamente tutto quello che facciamo perché comunque lui ha sbinzagliato ha sbinzagliato su tutti i social tutta una serie di suoi personaggi che operano con profili fake ah sì ma sì tipo ma uno di questi è forse un no no però aspetta un attimo questa cosa mi interessa più di ogni altra cosa tu sei per certo che ci sono dei profili no io a me interessa questo la comunicazione tu dici che ci sono dei profili hai per certo sei per certo che Cairo ha sbinzagliato persone che hanno profili fake e che seguono i vari vogliazzi Terranova Depaz seguono seguono i social seguono i forum è ovvio cioè ma da sempre cioè non è una novità hai dei nomi di ecco per esempio Roberto Paltro tu lo conosci sì no no non mi fa dire cosa è Roberto Paltro per esempio bisogna inizialmente pensavo fosse fake poi ho visto delle cose ma Roberto Paltro tu lo conosci è reale è reale è un caso è un caso patologico il famoso Roberto Paltro infatti voglio invitarlo l'avevo pure invitato adesso adesso gli riscrivo ricordiamo che se mai Cairo dovesse accettare di rispondere a queste 50 domande dov'è che andrà diciamo la diretta del del luogo ovvio come promesso su ToroCast ovviamente altre due domande finali cosa ne pensi della chiusura del CerberoPodcast del CerberoPodcast cos'è CerberoPodcast e vabbè non importa lettere iniziale lettere iniziale dell'azienda che voleva che vorrebbe comprare il Toro non te la posso fare potrebbe esserci un indizio in questa risposta grazie Marina Cismondi noi ci rispiamo chiaramente per la ripresa del nuovo Toro che la seconda stagione che sarà totalmente diversa dalla prima sarà molto più secca infatti sarà anche l'ultima perché credo che verrà bannato durante la stagione stessa e anche se è un format questo che il grande pubblico penso non si non si merdi ciao Marina alla prossima se poi in chiusura vuoi dare un indizio come ultima in chiusura se vuoi dare un indizio di questa il nome di questa azienda prego ti do 5 secondi mi spiace non posso posso solo chiedere di ribadire che mai 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 avremmo fatto quel post se non avessimo l'assoluta certezza che è realmente successo quanto scritto potete crederci potete non crederci è successo alla prossima ciao a tutti ciao buona giornata grazie a tutti